...di spese, ma per Polonia sì, qui no. L'ho comprato, ho detto guarda, non vado in Polonia, e non vado in Polonia, però purtroppo non ho trovato. Comunque, oh, l'hai visti che gli olandesi come soffrono di Svezia? Sì, ho perso 5-3 dagli Svezzi. Però in Italia che ha perso con la strada, che non è molto forte. No, beh, ma anche pareggiato con la Svezia, che anche quella è molto forte. Tempo! Però l'altra cosa forte è che gli inglesi, le donne, hanno toccato 25 gol in 20 minuti. Io non ho mai visto un punto di video, ho visto 20 e 0, 21 e 0. 25 in 20 minuti... Il neo del tabellone è sull'internet, uno che ho dovuto scrivere io... Lo che ho dovuto scrivere io...